Beppe stasera taglio ridica i funghi porcini tricolati, eh? Sì middle Cargabilità, questa è la pilota che consiglia Vengono avanti col valia per me. Simo! Cosa vuoi? Bisogna di una cortesia se è possibile. Cosa vuoi? Mi rendi un goccio d'acqua dopo? Sì. Più. Sì. Non sento il fritto misto, eh. I prossimi vedono gli amici, Beppe. Bisogna comprare la prima, coglione. Bisogna mangiare i porcini, quei tagliolini, non è bisogno dell'acqua. Quindi compratela. Beh, devo togliere quegli specchietti qua, perché quando mi guardo rimango visto visto di me stesso. La sua bellezza! Eh, adesso stasera mi fermo alle sei, perché devo fare a meno e sette e mezzo. Mi fermo alle sei, perché devo togliere quegli specchietti qua, perché rimango il valore di dito a certe volte. Questo naso qua, francese, questi lineamenti, qua è talmente fini, che veramente, guarda. Telefonato che vanno a ringraziarla. E' stato dieci anni meno? Gli ho detto, mamma, mi hai fatto troppo bello. Dovevi farmi un pochettino più normale. Eh, Giovo, non nascono tutti così fortunati, eh. Eh, vedi, sai, la fortuna certe volte bacia i belli. di oggetto dove vanno a ringraziarla. Posso aggiungere. Hai ragione. Hai ragione, Vol ин Beby che bambina, ho ragione la foto. Il sacrificio enorme con la ragazza, rimanere tutto perché ha un coraggio di lasciarlo, adesso voglio parlarle io. Direi che hai coraggio? Io gli ho coraggio, ti spiego due o tre cose, come deve essere la visione mia dell'uomo. Vai avanti, si. E' molto probabilmente lei sta leggendo ancora Topolino, mi capito? Vai avanti, fa quello? Ma probabilmente si, perché non si rende conto di che persona va avanti. Vorrei provare a farmi conoscere a Topolino, ti faccio vedere la dimensione della sua bocca con il mio cazzo com'è. Ancora sono la merda. Sono ideale. E tu devi capire che comunque, lui dice così ma non lo farebbe mai nel 3 a. Questo mi lo mette nel servatorio della classe anche. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Con la pancrega. Ma ciao. Sì, beh tutto questo per l'amicizia, beh. Sì perché mi vuole bene, certo. Non esclusivamente per l'amicizia. E poi scusa, ti faccio una domanda, mi rispondi. Chi vedi? Te lo vedi nudo. Beh, voglio dire come guardarmi nello specchio, beh. Adesso stiamo parlando di lui, lascia stare. Te lo vedi nudo? Sì, sì. Sì. Non è tanto. Ci vuole un bel coraggio solamente a pensare a dirgli che ti voglio bene. Non è tanto. Sì, ti voglio bene. Ha delle cose. Non lo tocco non lo tocco. Vえて la proposta. È hobbit. Non lo go ? Si t Sta come Мacchia o Mhaglia? Bello che è начала. Sono capitali. Chi è però? E' pure dove adesso in giro con la camicia e tu devi vederlo in camicia. E' un filo rino. Sì, no, sembra anche il fine. Ma non ti aspetta. Guarda, ferma. Sì, no, in questo caso la sparenza è in gata? Assolutamente sì. Vabbè, quando va in giro è tutta un'altra persona. Lui esprime tutta la sua legata tutto sul trattore. Sì, in uno. Sì, no, in avanti, che da l'età, che il veder lì è? Pulisci quel vettor lì che lo schifo, come cazzo fa a inquadrarvi. Vedo tutto? Sì, sei come mona elettrica. Vedo tutto da qua su. Di giù muoio giù. Ti fa un culo più. Ciao, c'è il pollone. Spostiamo l'inquadratura su Tornado. Giuseppe. È al telefono, Andre. Questo probabilmente non pulisce il vetro perché quando arriva il trinziano vede. Eh, bravo. Giuseppe. È al telefono, Andre. Ok, non si è abbramato. Sì, non è giusto. Sì, non è giusto.